Siamo al campo, anche io sono nella protezione civile del gruppo comunale di Cersone in provincia di Aquila e qui abbiamo dei partecipanti, che è il nome? Sofia, 13 anni. Alfredo, abbiamo parlato dei piani di protezione civile, ce ne vuoi parlare? Allora, il periodo di emergenza è un documento che si può trovare nel proprio comune o sul sito internet del proprio comune. Contiene tutti gli atteggiamenti da assumere in caso di emergenza e indica anche altri elementi, come ad esempio l'area di attesa, che sono dei campi attrezzati appositamente per soccorrere delle persone che hanno subito un evento calamitoso. Invece, con la processa italiana abbiamo parlato di soccorso per una persona, ad esempio, in un testo cardiaco. Puoi parlarvene? Sì. Allora, esistono, diciamo, due modi. Ci sarà un messaggio cardiaco, in realtà sono cinque città, trenta compressioni e due amici in suffoluzione. Le mani si mettono così e si spettano così. Allora, voi in questo campo, la cosa che vi è piaciuta di più? Un messaggio cardiaco. E la ricerca della droga con l'elità cinofila di Mara Pigneri. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.